siamo qui con jacopo stella al termine della partita tra l'ositana e con auto lidense vinta dagli ospiti 3 a 2 jacopo una partita difficile erano preparati e noi siamo scesi in campo un po diciamo deboli ci siamo ripresi la partita ripeto è stata molto difficile li siamo andati a prendere a lì siamo tornati noi alla fine avete sfiorato quello che era ormai un isperato pareggio cosa è mancato oggi alla rositana un po di cattiveria e lucidità un po cattivi sotto porta però comunque secondo me ci siamo siamo abbiamo sbagliato all'inizio ultima domanda è arrivata questa sconfitta dopo due vittorie consecutive in campionato e una in coppa lazio con che morale approccerete alla prossima gara sicuramente non ci scoraggiamo andiamo a vincere anche la prossima pensiamo sicuramente vince perfetto allora ringraziamo jacopo stella ribadendo il risultato finale l'ositana 2 con auto lidense 3